Mercanzia 2012, 11-15 luglio, questo è il manifesto, un'anteprima. Mercanzia 2012, il quinto elemento, l'essenza, la sostanza più intima del nostro festival, ma anche il quinto elemento come il gioco collettivo, la novità che vogliamo introdurre. Cosa significa giocare? Già un festival in cui la comunità si riconosce, una grande festa di una collettività, ma il gioco collettivo diventa proprio delle azioni, dei momenti, come abbiamo già avuto un'anticipazione l'anno scorso con il gioco delle sfere danzanti che coinvolgeva centinaia di persone in questo gioco a passare, a far rimbalzare queste grandi sfere bianche sopra le teste di tutti. La cura del borgo sarà ulteriormente raffinata con situazioni di suggestione poetica. Giardini segreti avranno ancora uno spazio importante con realmente 5-6 delle migliori compagnie della sperimentazione italiana. Siamo qui in questo anno a dirvi mercanzia c'è, mercanzia vuol sognare, mercanzia certaldo 11-15 luglio per vivere un momento di festa insieme.